Musica Seconda edizione del nostro telegiornale, ben trovate a voi tutti, apriamo con la cronaca con una grossa operazione antimafia portata avanti dalla squadra mobile della questura di Catania ad Adrano dove il clan Scalise si sta riorganizzando, sono 15 le persone finite in manette, estorsioni, spaccio di sostanza stupefacente ma anche atti intimidatori nei riguardi di un collaboratore di giustizia Associazione mafiosa, traffico, spaccio di droga, detenzione di armi ed estorsione aggravata dal metodo mafioso la squadra mobile della questura di Catania ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 persone ritenute essere appartenenti al clan Scalise una diramazione territoriale adranita del clan Laudani di Catania Non è la prima volta che questa organizzazione viene colpita dalle forze dell'ordine ma l'operazione odierna, denominata Triade, punta l'attenzione sulla tracotanza del clan in fase di riorganizzazione, compito affidato a Massimo Neri, inteso Zicchinetta, uno dei 15 arrestati di oggi in manette per cocaina, marijuana ma anche per le estorsioni, almeno 5 documentate dalla polizia più un cavallo di ritorno per un'autovettura rubata a Catania Le indagini sono davvero recenti, essendo partite alla fine del 2019, conclusesi pochi giorni fa e che hanno accertato come Massimo Neri, già indicato da alcuni collaboratori di giustizia come esattore delle estorsioni, avesse riorganizzato il sodalizio mafioso assumendo il controllo fino alla scarcerazione di Carmelo Scaffidi, detto Testa Rossa Notevole rango all'interno dell'associazione mafiosa è quello affibbiato dalla polizia Salvatore Calcagno Si tratta del nipote di Giuseppe Scaravigliere, attualmente detenuto al 41 bis che agirebbe in maniera meno visibile rispetto alla componente operativa di strada ma non per questo meno pericolosa La polizia nel corso dell'indagine ha scoperto come in questi mesi siano stati registrati particolari momenti di tensione tra gli appartenenti al clan Scalisi e quelli riconducibili ad altro gruppo criminale emergente ed operante nel medesimo territorio Escalation che culminò con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco contro Salvatore Gerrizze e Francesco Vitanza tanto che il 21 agosto del 2019 in un'ex palestra di Adrano si tenne un summit cui parteciparono gli esponenti degli Scalisi del clan Sant'Angelo di alcuni appartenenti al clan Laudani di Catania tutto documentato dalle immagini della videosorveglianza Gerrizze poi nell'estate del 2020 iniziò la collaborazione con le forze dell'ordine suscitando il disappunto tra i componenti del clan e soprattutto di Massimo Neri che pensò persino di progettare atti intimidatori nei suoi confronti finalizzati a far ritrattare le dichiarazioni poi fu dato fuoco nel febbraio scorso ad uno furgoncino riconducibile proprio al Gerrizzo la polizia sospetta che questo fosse solo il primo atto di una serie di ritorsioni nei confronti del Gerrizzo nel corso dell'operazione sono stati sequestrate anche una pistola semiautomatica Beretta con matricola obliterata e un revolver calibro 38 senza matricola e la polizia ha detto agito velocemente anche per evitare nuove ritorsioni e ancora più cementare, evitare pure che l'organizzazione si cementasse ancora più all'interno del territorio di competenza parliamo di Adarano Il 17 febbraio scorso fu danneggiato un mezzo adibito alla vendita di panini riconducibile alla famiglia di Salvatore Gerrizzo dall'estate del 2020 collaboratore di giustizia tutto a ridosso di un'importante udienza in cui avrebbero dovuto utilizzarsi le dichiarazioni del collaboratore fatto questo che secondo la polizia di Stato e la squadra mobile di Catania è sintomatico dell'intento del sudalizio scalisi di avviare una serie di atti intimidatori ritorsivi ai danni dei familiari del collaboratore Quelli che sembravano inizialmente dei propositi così delle chiacchiere tra due persone in realtà si stavano effettivamente concretizzando e si erano concretizzate con il danneggiamento del camion utilizzato per la vendita dei panini attrezzato per la vendita dei panini che è appunto della famiglia del collaboratore di Gerrizzo Salvatore Celere le indagini anche perché il clan mostrava segni di riorganizzazione Il clan si stava riorganizzando naturalmente noi da anni seguiamo come squadra mobile e commissariato le evoluzioni dei clan che operano su Adrano che come voi sapete fa parte di una zona della provincia di Catania molto diciamo molto calda e quindi il costante monitoraggio ci ha permesso di cogliere sul nascere quello che è il tentativo portato avanti da Neri Massimo già noto anche perché con oggetto di numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia che lo indicavano come l'esattore della famiglia scalisi abbiamo potuto cogliere sul nascere, seguire e porre fine a questo tentativo di riorganizzazione del clan scalisi Cinque le estorsioni su cui è stata fatta luce adesso bisognerà capire il contesto I commercianti adesso verranno poi naturalmente escussi ma non c'è dubbio che collaboreranno anche di fronte a certe evidenze non può non essere così Estorsioni mensili ma anche poi i regali a Natale, a Pasqua per la festa del Santo Patrono un anno scorso che mi chiedeva di fare con un bar mi passava che c'è ora panettone, perché non mi chiede mai ci vedi che c'è un anno panettone, c'è un anno maestro e poi ci c'è tutto e se è 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 tutto e la famiglia dice che c'è un bar di casi di contagio registrato nella nostra regione nelle ultime 24 ore i morti sono 10 e quanto si evince dal bollettino del 6 marzo del Ministro della Salute ieri lo ricordiamo ci sono stati 519 casi ma vi è da segnalare oggi un vero e proprio boom di persone guarite 3.533 circostanze che fa scendere il numero dei positivi attuali sotto quota 20.000 sono stati processati oggi nelle ultime 24 ore 26.236 tamponi per cui il tasso di positività è del 2,25% in leggero riazzo sono 4.223 quindi le persone complessivamente decedute nella nostra isola all'inizio della pandemia stabile anche la situazione sul fronte degli ospedali al momento sono ricoverate 783 persone di cui 121 in terapia intensiva vediamo adesso il dettaglio delle province è preoccupante il dato di Palermo 254 nuovi casi poi tutte le altre province dell'isola con cifre solo doppie Catania 79, Messina 63 ed intanto il Presidente della Regione Nello Musumeci con un'ordinanza ha prorocato i controlli anti-Covid per chi arrivenne a Sicilia la precedente ordinanza era scaduta ieri restano dunque le verifiche in porti e aeroporti avviati fino dall'estate scorsa nelle ultime settimane inoltre tutti i punti di controllo ai drive-in possono contare su tamponi di nuova generazione la Regione Siciliana ricorda che chi fa ingresso in Sicilia è tenuto a registrarsi sulla piattaforma apposita questa misura non è prevista per i pendolari che ritornassero nell'isola per un periodo inferiore ai 4 giorni intanto prosegue anche l'attività degli AB nell'abito della campagna vaccinale a quegli operativi di Palermo e Catania domani si aggiungerà anche la struttura di Siracusa verso la riapertura dell'ospedale di Acireale dopo che il nosocomio è stato dedicato per alcuni mesi all'emergenza Covid se ne è parlato questa mattina in municipio di Acireale vediamo un'azione sinergica quella condotta dall'amministrazione comunale di Acireale all'unisono tra maggioranza e opposizione l'obiettivo comune è quello di favorire al più presto la riapertura totale dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera riattivando e potenziando il punto nascite il nosocomio accese come noto fu indicato come Covid Hospital ma già nelle scorse settimane la politica locale si è attivata affinché il Santa Marta possa tornare un sicuro punto di riferimento nel territorio l'ospedale abbiamo avuto assicurazioni ho parlato fino a pochi minuti fa con Maurizio Lanza che il direttore che verrà riaperto la piastra operatoria verrà riaperta a giorni e quindi resa fruibile a discapito dei posti di terapia intensiva che venivano utilizzati su questa struttura il punto su cui è più importante oggi agire e su cui abbiamo avuto un incontro questa settimana con la direzione provinciale dell'ASP è il punto nascita il nostro obiettivo è proprio questo cioè adesso riaprirlo ma con una prospettiva di crescita perché se no saremmo nelle condizioni poi a breve di avere difficoltà non devono esistere maggioranza opposizione destra-sinistra in battaglie come questa che ha al centro la salute dei nostri cittadini i servizi offerti agli abitanti non solo di Acireale chiaramente ma del comprensorio questa deve necessariamente essere la battaglia di Acireale è importantissimo secondo me noi ne abbiamo fatto da tempo una battaglia la riapertura del punto nascita il diritto a nascere nella nostra città il diritto a nascere per gli Acesi tutti nell'ospedale di Acireale è un valore che va difeso su questo non sempre c'è stata un'attenzione della politica al contrario spesso andava nella direzione opposta invece questo consiglio all'unanimità lo ripeto è nella direzione di difendere il diritto a nascere Acireale dopo la tristissima vicenda della conversione in Covid Hospital di questo ospedale oggi cerchiamo di tornare e lo speriamo nel prima possibile a una normalità che vuol dire servizi ai cittadini di questo comprensorio di fatto da qui a breve verrà riaperto il punto nascita è sicuramente una gran bella notizia per la città di Acireale per tutti i cittadini di Acireale l'ospedale di Acireale ha alcune problematicità ne siamo coscienti ma anche dei punti di eccellenza proprio da quelli proprio augurandoci anche che ce ne siano degli altri ci sia una prospettiva di sviluppo per l'ospedale stesso lotteremo e faremo in modo che tutte le condizioni possano essere messe in atto per poterlo potenziare e per poterlo portare a livelli sempre più importanti A proposito di Covid in Sicilia nelle scuole siciliane secondo i dati raccolti dall'agenzia di stampa di Ennecronos sui contagi degli alunni su indagine poi effettuata dall'ufficio scolastico regionale ed aggiornata all'1 marzo è una incidenza degli alunni positivi sul complesso totale degli alunni frequentanti dello 0,19% il numero maggiore di positivi è alla scuola secondaria superiore 436 casi poi dalla primaria 433 quindi scuola media 346 dell'infanzia 102 per quanto riguarda il personale docente non docente l'incidenza del personale docente è bassa secondo quanto segnalato in particolare per appunto per i docenti l'incidenza è pari allo 0,33% mentre per il personale ATA si attesta allo 0,31% il tema della salute in special modo della salute delle donne e deve essere rimesso al centro dell'attenzione politica e amministrativa lo chiedono le attiviste di non una di meno un sit-in senza preavviso quello odierno delle attiviste di non una di meno Catania che si sono date appuntamento dinanzi al santo bambino chiedono che all'interno dello stesso ospedale sia costantemente presente un servizio di ambulanze per gestire le emergenze chiedono pure il potenziamento della rete sanitaria territoriale il rifinanziamento dei consultori la tutela della salute le attiviste con slogan e striscioni hanno precisato di voler avere parola sulla destinazione d'uso degli spazi pretendendo che i processi decisionali siano chiari e trasparenti e non affidati a dichiarazioni scomposte inappropriate illegittime spiegano in poche parole chiedono che il consultorio del santo bambino non venga chiuso e che lo stesso santo bambino torni ad essere un pronto soccorso ginecostetrico questa è una prima diciamo occupazione simbolica per fare sapere alla città che di questo luogo che prima era un presidio importantissimo per le donne un pronto soccorso estetrico lo stanno stanno modificando la destinazione d'uso noi vogliamo che questo rimanga anzi che sia ripreso che diventi un luogo per le donne di tutto il centro storico che sono costrette se hanno un'emergenza ad andare in ospedale allora non è ammissibile in piena pandemia che non si pensi a creare dei presidi territoriali se ne parla in tutto il mondo ma a Catania no negli ultimi anni ben 208 consultori sono stati spazzati via dai tagli alla sanità pubblica e al diritto alla salute secondo non uno di meno viene negato di fatto ogni volta che un quartiere perde un consultorio un ambulatorio un ospedale la stessa regione siciliana attraverso il presidente Musumeci parla di processo di rigenerazione urbana il sindaco di Catania a Pogliese affermano ancora esulta per i 116 milioni promessi dalla regione per sovvenzionare la riqualificazione dell'area ospedaliere dismesse a Catania il modello così realizzato però secondo non uno di meno abbandona la tanto decantata medicina territoriale esatto fra parentesi è ex ospedale ormai chiuso ma al suo interno esiste un consultorio molto ben funzionante uno tra i pochi fra parentesi della città che è stato appena ristrutturato ci sembra assurdo sacrificare un presidio medico territoriale di questo tipo fra parentesi noi crediamo che tutta la struttura come d'altronde era la sua destinazione d'uso iniziale vada dedicata alla salute sessuale e riproduttiva delle donne in questo momento stiamo provando lo sciopero globale femminista e transfeminista e l'8 marzo saremo in piazza Catania in piazza Teatro Mastri alle 16.30 e in tutto il mondo migliaia di donne saranno in piazza per difendere la possibilità di decidere sui nostri corpi ecco questo ospedale chiuso è un esempio di come questa possibilità ci viene negata e noi lotteremo perché venga tenuto aperto e riaperto alle donne di tutta la città tra l'altro se proprio l'ospedalieri dovrà essere demolito e dismesso non sa da fare il suo trasferimento al posto dell'ex santo bambino spiegano le attiviste che si dicono felici che l'assessore Trantino voglia riempire la città di piazze e luoghi di aggregazione ma quello che manca se non se ne fosse ancora accorto sono propri servizi un bimbo di due anni è morto mentre dopo essersi sentito male veniva portato in ambulanza da Santa Teresa Riva al policlinico di Messina il piccolo era prima stato trasportato d'urgenza dai genitori all'appunto territoriale di emergenza di Santa Teresa di Riva per un problema gastroindestinale i medici hanno deciso di trasferirlo al policlinico dove però è giunto privo di vita sulla vicenda indaga la polizia per capire se ci siano state omissioni da parte dello staff sanitario interventi estetici post evento tumorale chemio in forma gratuita a chi non può sostenere il costo e la lodevole iniziativa di una dermopigmentatrice catanese particolarmente sensibile verso questo tipo di problematica un'attività segno di sensibilità nei confronti di chi ha subito i postumi di un intervento tumorale con successiva chemio con interventi estetici successivi non sempre alla portata di tutti l'iniziativa lodevole di una dermopigmentista catanese particolarmente sensibile verso la problematica Gabriella Maugeri infatti in assenza di uno specifico intervento da parte del servizio sanitario in Sicilia offre la sua professionalità nel settore in forma gratuita questa iniziativa nasce dal fatto che nella vita reale ci sono moltissime pazienti oncologiche quindi donne che hanno sofferto per il cancro e che non possono permettersi il trucco segi permanente in questo caso la dermopigmentazione in ricostruzioni totali di alopecia o quant'altro in quel caso interveniamo noi come figura di dermopigmentisti proprio per far iniziare un percorso di ambulatorio di PMU di dermopigmentazione proprio per la città di Catania visto che già a Milano lo fanno da 20 anni questo dovrebbe essere un servizio convenzionato della sanità quindi dell'ASPO in questo caso perché comunque io essendo un privato e avendo delle liste d'attesa abbastanza lunghe non posso permettermi di fare tutti questi servizi gratuiti di conseguenza ho bisogno che l'ASPO appunto si sensibilizzi per fare questa convenzione ai pazienti oncologici sono tante le persone che si rivolgono a lei? diciamo di sì diciamo di sì perché dal capriccio dal fattore estetico quindi per una questione comunque di bellezza perché partiamo dal presupposto che il trucco semipermanente è una cosa estetica prettamente estetica quindi un bene di lusso tra virgolette e infatti non si può scaricare neanche per le persone che soffrono di alopecia quindi dovrebbe essere comunque attenzionato nei pazienti oncologici ma anche nelle persone che soffrono di alopecia per avere un occhio di riguardo e una convenzione per queste persone io mi occupo anche di ricostruzione di areola del areola mammaria quindi ricostruzione del capezzolo nel caso in cui dopo interventi di mastopesti o rimozione del capezzolo dopo chiaramente sempre problematiche di malattia di cancro eccetera lì interveniamo noi come figure di dermopigmentisti per aiutare proprio per queste persone in difficoltà ecco perché chiaramente una donna perdendo un seno comunque un capezzolo si perde tanto di femminilità di autostima noi aiutiamo queste persone a ritrovare la propria autostima ed essere più femminili anche a livello materno voltiamo pagina adesso parliamo del bando settennale per la raccolta dei rifiuti a Catania finalmente il bando parte dopo tanto lavoro ma anche tanta ansia da parte degli organismi comunali è stato pubblicato oggi il bando di gara settennale del servizio di spazzamento raccolta e trasporto in riferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'Aro città di Catania il bando è suddiviso in tre macrolotti con durata settennale per un importo globale di 334 milioni 22.782 euro più IVA e prevede il sistema porta a porta differenziato in tutto il capoluogo etneo gli atti di gara sono stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale europea e sul sito web dell'ufficio competente per l'espletamento della gara d'appalto cioè l'urega sezione provinciale di Catania adesso ci saranno 60 giorni per parteciparvi e il bando giunge a conclusione di un lungo e complesso iter in cui il comune di Catania e la SRR hanno integralmente recepito le sollecitazioni dell'ANAC a dividere la gara in più lotti modificando anche alcuni aspetti del precedente capitolato abbiamo fatto un bando raccogliendo tutte le criticità del passato quindi si è lavorato proprio per renderlo appetibile e soprattutto renderlo funzionale alla città di Catania l'obiettivo è togliere i cassonetti dalla città che sono lo strumento con cui si abbandona di tutto anche da chi viene da parte da comuni di Mitrofi un danno per noi economico importante parliamo di 2 milioni di euro al mese di conferimenti in discarica e molti di questi sono appunto da comuni vicinori al nostro il bando introduce il porta a porta in tutta la città e oggi lo ricordiamo è esteso da appena il 15% della popolazione quindi troppo poco per poter avere livelli differenziati e importanti quali sono le caratteristiche di questo bando? porta a porta complessivo nei grandi condomini utilizzeremo dei cassonetti utilizzabili soltanto da chi abita negli stabili e raccoglieremo naturalmente rifiuto differenziato col calendario del porta a porta nei piccoli condominio nelle case singole la modalità è quella che tutti conoscono tradizionale del sacchetto posto sotto l'abitazione secondo appunto sempre il calendario e poi un coinvolgimento anche delle grandi realtà in città ci sono poli come l'università gli ospedali che ogni giorno accolgono migliaia di persone provenienti anche da altri comuni e quindi si tratta di piccoli quartieri che naturalmente ogni giorno alimentano un circuito di rifiuti importante notevole quindi lavoreremo molto su queste realtà dopo il sequestro del depuratore di Naxos i residenti e i villeggianti chiedono chiarezza di interventi risolutivi preannunciano la costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento da una parte l'amministrazione comunale che sta dispiegando uomini e mezzi per il ripristino della normalità con un accordo con quattro ditte con la richiesta alla protezione civile regionale di fondi per 300 mila euro dall'altra l'opposizione in consiglio che lamenta tempi e le fantiaci al di sopra l'eccezionalità degli eventi parossistici a cui l'etna ci ha abituati con l'emissione di gran parte di quantità di materiale piroclastico tra le polemiche e interventi già predisposti si infervora il dibattito sull'emergenza cenere a giarre oltre 50 tonnellate quelle già rimosse ma c'è ancora tanto da fare un'emergenza sanitaria oltre che di sicurezza per la quale il territorio è stato suddiviso in quattro macro aree in ognuna delle quali opererà una ditta specifica incaricata dal fenomeno parossistico che si è verificato il 28 febbraio ad oggi è trascorsa una settimana io nella seduta di consiglio comunale del 4 marzo e a seguire anche altri consiglieri comunali abbiamo sollevato il problema dell'emergenza cenere perché come si può notare facendo un giro a giare giare avvolta dalla cenere e che a sua volta depositandosi nelle strade nelle piazze nelle vie anche nei tetti eccetera con un po' di vento alla fine si trasformano in polvere sottili che sono molto nocive per la salute non solo delle persone che hanno patologie respiratorie ma anche delle persone sane anche per i bambini per gli anziani sono problematiche che vanno affrontate ritengo con estrema urgenza nella funzione di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa ho sollevato il problema durante la seduta di consiglio comunale di giovedì ma purtroppo ho dovuto riscontrare la totale assenza dell'amministrazione non vi era in consiglio nonostante la possibilità di collegarsi da remoto mancava sia il sindaco sia la giunta sia tutti gli assessori non era presente nessuno e quindi il problema non abbiamo potuto avere le risposte che chiedevamo perché più di altro vogliamo sapere come l'amministrazione si sta muovendo non basta leggere le ordinanze del sindaco perché a quanto pare le ordinanze e anche gli interventi fatti non sono sufficienti perché si sta procedendo a ritmi troppo lenti e con questi ritmi ritengo che ci vorrà almeno un mese per poter pulire tutte le strade di Giare inoltre per agevolare i cittadini io ritengo necessario anche procedere con una raccolta della cenere porta a porta perché per molti cittadini è gravoso portare i sacchetti presso i siti indicati dal comune già vediamo che la città l'intera comunità è martoriata dalla pandemia aggiungere anche questo ulteriore problema della cenere se noi ci facciamo un giro in comune limitrofi già in parte il problema è stato quasi del tutto risolto mentre a Giare ancora ci troviamo in una situazione paradossale in cui abbiamo le strade stracolme di buche e i cittadini sono costretti spesso a fare dei veri e propri slalom per evitare di distruggere le proprie auto e ora paradossalmente queste buche sono ricoperte dalla cenere vulcanica è una situazione secondo me che il sindaco deve dare delle risposte serve una maggiore sinergia tra l'amministrazione e la protezione civile se occorre è necessario anche stanziare fondi straordinari reperire fondi straordinari perché una situazione del genere ritengo sia insostenibile e occorre una maggiore incisività ed efficacia dell'azione amministrativa abbiamo visto insieme il servizio sulle difficoltà nella raccolta a cenere a Giare adesso lo vediamo insieme invece il servizio sul depuratore di Naxos una situazione che si trascina da tempo venuta adesso fragorosamente alla ribalta per l'ennesima volta dopo il sequestro da parte della polizia ambientale la guardia di finanze e la polizia di stato parliamo dell'impianto di depurazione del consorzio rete fognante dei comuni di Taormina Giardini Naxos Letoianni e Castelmola una misura scattata alla termine di un'intensa attività di polizia giudiziaria con l'attività ispettiva svolta anche dal personale della polizia scientifica e dell'ARPA di Messina rilevata una grave situazione di contaminazione ambientale riconducibile al cattivo funzionamento e alla precaria manutenzione dell'impianto nonché alla gestione e trattamento delle acque reflue le forze dell'ordine hanno riscontrato lo sversamento di reflui non depurati nell'alveo delle fiume Alcantara sia della condotta di troppo pieno che del terminale del depuratore nonché una vasta quantità di fanghi custoditi all'interno delle vasche di depurazione dello stabilimento protestano i residenti della zona in maniera particolare i proprietari di appartamenti all'interno di una residenza adiacente chiedono chiarezza minacciando di costituirsi parte civile in un eventuale procedimento ci abbiamo investito ci abbiamo investito i nostri risparmi ci stanno le nostre famiglie ci stanno i nostri figli i nostri nipoti pertanto vorremmo e desideriamo ma a questo punto forse pretendiamo un po' di rispetto perché è quello che ci è mancato è impossibile oggi leggere il depuratore viene sequestrato ma lei pensa che questo può soddisfare le nostre esigenze ma assolutamente no perché intanto questo problema lo doveva risolvere la politica e ne parlammo a Giarre a marzo del 2020 quando venne il professore Rolle che era il commissario dei depuratori perché questa era una cosa che andava sanata politicamente non basta solo sequestrarlo e ora che è sequestrato noi che fine facciamo che siamo l'avamposto di quel posto chi ci dà le garanzie chi ci interpella su quelli che sono le nostre esigenze le nostre cose chi ci risarcisce dei danni seriamente adesso stiamo valutando insieme a un gruppo di amici proprietari evidentemente insomma di costituirci anche parte civile in questo discorso perché se ci sono delle responsabilità anche se io credo ma certo non sono un inquirente mi piacerebbe tra l'altro anzi lancio questo appello proprio da questi microfoni direi che è sempre attenta lancio l'appello che voglio essere sentita dagli inquirenti perché ho una serie di documentazioni che tengo dal 2012 di passaggi che francamente non abbiamo capito tra le altre cose credo che ci sia un problema anche legato ai soldi perché prima di questa notizia del sequestro abbiamo ascoltato abbiamo sentito abbiamo visto che ci vogliono 3 milioni e mezzo di credito al depuratore che gliele devi dare questi soldi al depuratore lei ha mai visto cose che funzionano senza soldi nuovamente in studio dalla nostra redazione nessun aggiornamento dunque termina qui la seconda edizione di Ora Tg la prossima lunedì alle ore 14 grazie per essere stati in nostra compagnia voi tutti buono proseguimento di serata e buon weekend le previsioni meteorologiche per la giornata di domani domenica 7 marzo il cielo sarà coperto da nubi che saranno spalmate su tutta l'isola i venti saranno deboli i mari leggermente mossi uno sguardo adesso le temperature sul capologo etneo avremo una minima ed una massima rispettivamente di 10 e 17 gradi centigradi le città più calde invece saranno Siracusa e Palermo insieme con Agrigento con 18 gradi la temperatura più fredda e nottata si avrà nell'entroterra ad Erna con 4 gradi centigradi per la giornata di domani per la giornata di domani per la giornata di domani